come le dicevo al telefono ecco si pare al telefono non ho capito tanto bene la nostra è un'azienda leader nel campo web communication e social media marketing e avremo bisogno di lei stiamo creando un nuovo modo di fare azienda puito educhiamo i manager del territorio a potenziare le proprie eccellenze interne una consulenza a 360 gradi su più livelli da quello strategico al logistico per poi arrivare a quello pratico ma ma cosa cosa si fa lo cosa feo voi aiutiamo i manager di oggi a emergere guidiamo il singolo verso una nuova consapevolezza e mi ascolte prima di venire entro passare un fiap per rilasciare mi sembra che avessi un spritz non vorrei che invece esagerare con l'apparol o se ne è proprio lui che non si capisce niente mi spiego meglio ecco meglio cerchiamo un collaboratore che sposi al 100% il modus operandi dell'azienda in modo da far focalizzare al cliente il proprio vero core business core business beh andando avanti capirò meglio cosa che voglio fare per adesso mi bastaria capire quanti schei quanti soldi quanti schei che ci ha pe si ci ha po' ma non che ti ci ha pe te che ci ha po' mi noi pensavamo a un nostalge che sarei come dire un nostalge è una splendida opportunità per capire se lei fa per la nostra realtà e se noi facciamo per lei mi ascolta il manager me ne è in giro a casa mia tutti gli anni a settembre 7 di mea lì un nostalge nel senso che se ti vieni non ti c'è un franco ma il manco in me è una fettina di sorpresa con la polenta e ti ha da ti arriva la mattina a buon'ora e ti cominci a tirare 2 ua dopo un mio dì se ti sei sveglio ti puoi portare le secce e la sera se ti sei sta bravo ti fanno anche a guidare il trattore grande occasione di crescita ma se ti vieni ti domando è solo un piacere portate le forbici a serpire che va sempre persa e cavate che faccia la monna e adesso se permette scampi capri monna grazie a tutti grazie a tutti